Ha sempre approfittato di ogni opportunità per mantenere i suoi rapporti privilegiati e il controllo del territorio. Il 74enne uomo d'onore Giuseppe Guttadauro, negli anni 80 ex aiuto primario dell'ospitale civico, medico sempre a disposizione dei boss, non si smentisce. E' ritornato in carcere da domiciliari perché i carabinieri hanno scoperto che comunicava liberamente con tutti, dalla sua casa di Aspra grazie alla messaggeria digitale Telegram, Udutturi, come viene soprannominato Guttadauro, è fratello di Filippo, il cognato del capo della cupola Matteo Messina Denaro, ed era in forte agitazione per il voto al comune di Palermo, dai messaggi sulla chat di origine russa. Un voto comunale intrecciato fortemente con vicende di mafia, ma lo stesso Guttadauro da sempre è legato con la politica. Nel 2003 fu protagonista dell'inchiesta sull'ex governatore siciliano Totò Cuffaro, condannato poi per associazione mafiosa. Infatti nel capoluogo siciliano l'atmosfera deve essere incandescente, al di là del meteo, perché ben due aspiranti consiglieri comunali, Pietro Polizzi e Francesco Lombardo, rispettivamente candidati con Forza Italia e Fratelli d'Italia, sono finiti in manette, pochi giorni prima del voto per chi avevano chiesto preferenza ai clan, proprio mentre si celebrano i 30 anni da Capaci via D'Amelio.